Investire nelle energie rinnovabili attraverso un proprio impianto con contratti PPA o con le comunità energetiche rinnovabili si sta rivelando fondamentale per contrastare il caro bollette nel mercato dell'energia elettrica e allo stesso tempo agire attivamente per realizzare obiettivi di sostenibilità non più rinviabili. In questo contesto la Fondazione Luigi Naudi in collaborazione con l'European Liberal Forum hanno presentato il loro elaborato sul tema come introdotto da Simona Benedettini coordinatrice dello studio. Il contributo della Fondazione Naudi al dibattito europeo materia di transizione energetica si è concretizzato oggi con la rappresentazione e la presentazione di due pubblicazioni su comunità energetiche e PPA che vogliono appunto andare a studiare le barriere e le best practice su questi due strumenti a livello europeo. Gli studi sono stati presentati in senato dove è intervenuto il ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Picchetto Fradin. Lo studio presentato oggi dalla Fondazione Naudi è un studio importante, realistico, che dà un contributo a quello che è un percorso che noi abbiamo iniziato, che stiamo perseguendo con determinazione e con realismo, che deve vederci intervenire sulla decarbonizzazione con l'obiettivo di neutralità al 2050, con il primo step al 2030 del battimento 55 per cento, ma che deve vederci cambiare quella che è la pelle energetica del paese e facendolo diventare anche un brand nel nostro paese. Diversi vantaggi dell'introduzione delle PPA sia in ambito economico come l'abbattimento dei costi di produzione, sia in ambito ambientale con la riduzione delle emissioni di gas a serra. Secondo gli studi l'introduzione delle PPA nel quadro normativo italiano sarebbe favorevole da più punti di vista e ne beneficerebbe anche il mercato dell'elettricità. In totale la produzione di elettricità in Italia da fonti rinnovabili ha rappresentato circa il 27 per cento della produzione totale di elettricità. Nonostante la normativa includa una delle migliori pratiche tra quelle proposte dalla Commissione europea, c'è ancora scetticismo sull'argomento. Il futuro energetico dell'Italia, mi pare che bene o male siamo riusciti a mettere le cose sui binari giusti per garantire la sicurezza energetica e garantire anche un certo sviluppo delle rinnovabili e riduzione delle emissioni. Per quanto riguarda il Green Deal dobbiamo rassegnarci all'idea che è una politica completamente da rivedere. Non sta funzionando.